Martedì 1 giugno 2021, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 del digitale terrestre, visibile in tutta la nostra regione, splendida regione, la regione Marche e visibile anche sui nostri canali social. Buongiorno, ben ritrovati a questo appuntamento con il commento alla stampa del giorno. Iniziamo come di consueto a vedere il santo di oggi, oggi è un santo martire, San Giustino, il sole è sorto alle 5.29 e tramonterà alle 20.48. Splendida regione, le Marche che oggi saranno baciate dal sole, non c'è molto da dire questa settimana, insomma il sole ci terrà compagnia anche se possiamo dire che questo sole scalda ma fino a un certo punto, nel senso che ancora è fresco, il mattino soprattutto, alla sera, all'ombra ancora c'è questo venticello molto 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 fresco ma comunque avremo tempo per goderci anche il caldo, caldo che arriverà comunque nei prossimi giorni con l'aumento delle temperature. Apriamo la finestra sulla spiaggia di Fano per vedere come sta, ce la facciamo con il nostro Tommy Bagnino, buongiorno, oggi attrezzato anche con le cuffie e con una connessione sicuramente più brillante, come il sole che sta illuminando dietro di te questo mare meraviglioso, il mare Adriatico che oggi ha una tavola. Sì Marco, buongiorno, oggi abbiamo una giornata splendida qui in spiaggia, ancora sono col giubbotto perché le temperature sono un pochino basse però sicuramente aumenteranno nella giornata. Senti, questo fine settimana, visto che ieri non ho avuto modo di chiedertelo, mi pare che confermi che c'è stata molta gente, insomma comincia a vivacizzarsi questo inizio estate, tarda primavera. Sì, assolutamente vero, abbiamo cominciato a vedere una parvenza d'estate, devo dire la verità comunque è tutto nel discreto rispetto delle norme, però abbiamo avuto una bella fluenza molto di più rispetto al weekend precedente, quindi cominciamo a sentire aria d'estate Marco. Allora, previsioni meteomarine, anche se immagino non ci sarà molta gente oggi a fare il bagno, ma comunque insomma tempo buono questa settimana? Sì, ancora è fresco per il bagno, però qualche temerario c'è, ti dico la verità. Comunque condizioni meteomarine favorevoli, mare piatto, ancora abbiamo una leggera brezza mattutina, quindi per ora niente vento, quindi ideale per venire al mare. Bene, buon lavoro, buona giornata, a domani. Grazie. Allora, salutiamo Tommy, andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, per chi non ha tempo di andare al mare, anche da temerario, ma insomma c'è il discorso della scuola, gli esami di maturità e quest'anno oltre all'esame di maturità c'è anche la possibilità di fare il vaccino. Ecco la novità, vaccini ai maturandi, domani il via, potranno farli fino a domenica senza doversi prenotare, sono 13.800 gli studenti marchigiani coinvolti. A centro pagina il libro dell'OS, i nostri piccoli gesti d'amore contro il virus, vi racconto l'altro Covid. Sono le operatrici sanitarie, in particolare qui il Carlino racconta di come questa operatrice ha scritto questo libro, raccontando un po' questi piccoli gesti. Poi, Sharon Stone, che si racconta nella notte di Passaggi Festival, l'attrice sarà in collegamento da New York e quindi si potrà dialogare con lei da Piazza 20 settembre e con New York. Poi il Catterraduno, che è un'altra manifestazione, un'altra kermesse che solitamente aveva come base Senigallia, quest'anno c'è un nuovo format e Senigallia dovrà dividersi, questo palcoscenico, tra Pesaro e Cervia. Catterraduno, il nuovo format, fa tappa in città per due giorni. Poi le multe, le multe tra Fano e Pesaro, sotto monte, 4 milioni sulla statale, il limite tornerà ai 50 km orari. Poi la protesta per un esame che, come al solito, va per le lunghe, un esame medico a novembre, ma con 350 euro. L'esame si fa subito praticamente, ma questa è una storia ormai nota e arcinota. Qui invece, sempre dalla prima del Carlino, VL, i tifosi hanno già scelto, Petrovic, il play degli anni d'oro è il preferito, ma c'è anche chi si esprime per Pozzecco. Mentre sui rifiuti, il biodigestore, ecco il progetto di Tiviroli, di Marche Multiservizi, che fa un altro passo in avanti per l'impianto da realizzare a Talacchio. Andiamo a vedere adesso invece il Corriere Adriatico. Anche qui l'apertura, da domani vaccini ai maturandi, fino a domenica profilassi per gli studenti nelle 16 location della regione senza prenotazione. L'area vasta 1 chiede ad Asur l'assunzione di 48 infermieri per sopperire alle attuali carenze. A centro pagina invece guida alle rotte del nostro aeroporto, l'aeroporto quello di Falconara. Estate in volo, Londra sì, Parigi no. Scavolini, parlando di futuro, sorride, riavrò le bocce, ma sarà come nel dopoguerra. Walter Scavolini, per tutti il patron o il presidente, la sferzata salvifica e salutare della ripartenza la sente. Il futuro lo vede con ottimismo e fiducia, ma ha una condizione. Bisogna vaccinarsi, dice Scavolini. Tutti senza se e senza ma. Se parliamo di futuro, se vogliamo immaginare quello che verrà lasciandoci quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo alle spalle, allora non si può prescindere. Quindi per Walter Scavolini è fondamentale vaccinarsi, tutti e presto. Il centro e la Baia invece chiedono isole serali per una movida soft, vale foglia Green Factory sicura, biodigestore pronto per la fine del 2022 e sempre a Pesaro Comune riacquisisce tutto il vecchio palazzetto dello sport per l'accelerata finale. Sempre dalla prima del Corriere scomparso Don Giorgini, il paladino dell'ambiente, aveva 78 anni, estremo difensore delle frazioni, esequio giovedì nella sua chiesa di San Cesario. Poi un'altra morte che ha colpito la comunità di San Costanzo, anche se stiamo parlando non di un residente a San Costanzo, ma di un amico di San Costanzo, perché è morto Uber, il borgomastro, quindi siamo in Germania, che era amico della provincia. Da domani Vax Day per 13.600 studenti degli esami di Stato, il titolo del Corriere Adriatico 5 giorni fino a domenica per sottoporsi alla profilassi C, si può recare nelle 16 location in tutta la regione senza prenotazione. La regione ha finito di mettere a punto la macchina organizzativa con una corsia preferenziale dedicata proprio ai maturandi delle marche e da domani prenderà il via la campagna Vax Day, proprio per i ragazzi che frequentano le quinte superiori. Una profilassi scadenzata in ordine alfabetico che durerà fino a domenica dalle 8 del mattino fino alle 18.30, senza bisogno di prenotazione, anche se occorrerà compilare i moduli di adesione alla vaccinazione anti-Covid. Ora si inizia domani, domani con i cognomi dalla A alla C, C di Como, poi giovedì quelli dalla D di Domodossola alla L, venerdì 4 giugno con i cognomi dalla M alla P di Palermo, sabato 5 giugno QZ. Infine domenica sarà una giornata aperta a tutti coloro che non sono riusciti a farlo nei giorni precedenti. Come dicevamo 16 punti vaccinali in tutta la regione dove i futuri maturi potranno sottoporsi alla profilassi anti-Covid, a Pesero, all'Iper Rossini ex Ristò, via Gagarin e all'ospedale Marche Nord. Urbino al Bocciodromo di via Neruda, a Fano al centro ortofrutticolo Codma di Rosciano di Fano. Poi a Senigallia invece alla Caserma dei Vigili del Fuoco, poi altri punti che troverete sul giornale di questa mattina. Intanto Saltamartini dice a giugno potremo arrivare a un milione di vaccinati. La pagina di Fano invece questa mattina pubblica l'assoluzione di quattro persone alla sentenza del Tribunale di Pesero che sono i proprietari dello Chalet del Mar, molto noto a Fano. Chalet del Mar assolta la Movida, quelle feste non erano abusive, questo è il titolo, dopo quattro anni è arrivata la sentenza del Tribunale di Pesero. Il fatto non sussiste. Dunque tutti assolti e con formula piena, perché appunto il fatto non sussiste, gestori dello Chalet, Maurizio Girolimetti, Richard Mangucci, Richard Mangucci, poi Filippo Aiudi e Pascucci Daniele, proprietario della concessione. È stata la stessa procura a convincersi della non colpevolezza degli imputati, il PM ha chiesto la soluzione e il giudice l'ha accolta. Si chiude così a distanza di quattro anni una vicenda che aveva sollevato un polverone con tanto di interventi delle autorità fanese schieratesi a difesa del locale. Lo stesso PM appunto si è convinto della non colpevolezza degli imputati e ha chiesto la soluzione per tutti. Andiamo a vedere l'altra pagina del giornale. Pagina 15. Addio a Don Pier Giorgio, prete combattente. Giorgini, storico parco di San Cesario, si è spento ieri all'età di 78 anni, portò avanti tante battaglie ecologiste per il quartiere e il sindaco di Fano Seri dice era una guida. Celebri le sue campagne contro la discarica di Carrara e la centrale elettrica del quartiere. I suoi funerali si terranno giovedì con il vescovo Trasarti alle 15.30 proprio nella città, nel paese di San Cesario. Poi 5.000 euro per i bambini malati, l'assegno donato da Cristian Buzzelli all'Associazione Maruzza. Nuova speranza, serve un hospice pediatrico e qui c'è l'ospedaletto ridotto a magazzino. La politica acceleri, si torna a chiedere ancora una volta di poter sistemare quell'ex ospedale che già curò tanti bambini. Mentre Alzheimer, onlus senza sede, ci si impedisce di incontrarci. La protesta al centro Margherita. È scomparso Don Pier Giorgio, titolo del Corriere, uomo di Dio della comunità, aveva 78 anni, tenace difensore di Carrara e San Cesario, ha lasciato l'oratorio Bethlehem, un oratorio che tra l'altro, come abbiamo ricordato ieri, anche nel nostro telegiornale, Don Pier Giorgio ha pagato quasi interamente di tasca sua con un lascito che ha avuto dalla sua famiglia e quindi quei soldi li ha messi tutti per realizzare questo oratorio. Da Terre Roveresche, il comandante della Polizia Locale lascia l'incarico dopo 5 anni, il saluto e la gratitudine del prosindaco Aniballi. Ecco la comandante Milena Orlandi che dunque lascia l'incarico. Poi sulla pagina invece, questa interessante pagina 2 di Pesaro del Carlino, si torna a parlare dei tutor e degli autovelox che macinano multe continuamente in tutta la provincia di Pesaro Urbino, multe per oltre 4 milioni di euro. E sulla statale tornerà il limite dei 50 orari. Entro metà giugno verrà presa ufficialmente la decisione da parte di Anas, che è la proprietaria di quella strada, Trafano e Pesaro, Sottomonte, sulla velocità consentita nel tratto che va da Fossa, Signore fino a Pesaro. Ma pensate che nei primi 4 mesi di questo 2021 sono state 4.532, pari a circa 37 multe al giorno, quelle con questa macchinetta che si trova appunto lungo la statale 16, che è in funzione del 14 agosto dell'anno scorso. L'arrivo del tutor sulla statale adriatica, che sanziona se si supera la velocità media dei 70 km orari, ha portato ad elevare sanzioni per 1.238.000 euro in appena 8 mesi di funzionamento. E poi si parla in questo articolo anche di altri apparecchi, tutor, autovelox, eccetera, eccetera, che si trovano sparsi un po' su tutta la provincia. E sempre su questo tema, a pagina 3 invece, si parla del giro di vite per le auto e le moto sul San Bartolo. Paolini, il Presidente della provincia, dice che ne arriveranno 6 o 7 di questi tutor anche nei varchi. Chiesti preventivi poi andremo dal prefetto, contiamo di montarli tra giugno e luglio da Gabice a Pesaro, appunto in diversi punti e nei vari ingressi che ci sono, in modo che non si possa sfrecciare e uscire prima del tutor. L'obiettivo è calcolare la velocità media, come sta succedendo appunto dall'anno scorso sotto monte, perché poi se installi soltanto la telecamera in un punto, uno rallenta in quei 5 metri, poi riparte e sfreccia. Invece se fai la velocità media il discorso cambia, perché in un punto c'è l'inizio e poi la fine, ma in quel tratto tu devi andare piano, perché altrimenti la velocità media cambia e scatta la multa. Poi c'è una proposta che fa Paolini, l'accesso libero a paesi e ristoranti, sempre su questa zona del San Bartolo, ma dice lui, io pedonalizzerei l'area sabato e domenica, quindi nel fine settimana, come si fa in Sicilia, con un biglietto simbolico, che può essere anche di un euro, perché dice, le cose belle vanno mantenute e migliorate, io se vado in autostrada pago, qui l'euro aiuterebbe a mantenere il parco e a migliorarlo, spiagge comprese, curandone i sentieri per arrivarci da monte. Dalla Valcesano invece, a pagina 23 del Corriere Adriatico, è morto l'ex borgomastro, amico di questa provincia. Dolore per Tony Huber, a capo degli enti gemellati, lo ricorda l'ex sindaco di San Costanzo, Margherita Pedinelli, che qui vedete nella fotografia, insieme appunto a Tony Huber, aveva solo 56 anni e appunto viveva a Weisenbach, che adesso piange, insieme a San Costanzo, l'ex borgomastro, un po' il sindaco della cittadina tedesca, ed esponente di rilievo della politica regionale del Baden-Württemberg ed attuale amministratore distrettuale della provincia di Reichstadt. Huber era un volto amichevole e molto conosciuto nel mondo dell'associazionismo locale di San Costanzo, lo ricorda appunto l'ex sindaco Pedinelli. Poi a Marotta invece, il punto vaccinale intercetta gli over 60 senza siero, aperto ieri presso la sala Ciriachi, il punto vaccinale di prossimità gestito dai medici di medicina generale. Nella prima fase potranno vaccinarsi gli over 60, chi ha più di 60 anni, residenti nei comuni del distretto sanitario di Fano. Nella prima giornata sono stati 40 quelli che appunto sono stati vaccinati dai medici di medicina generale. Si proseguirà venerdì con ben 60 vaccinazioni, poi il 7 e l'8 giugno e infine l'11 di giugno. Ricordiamo che il centro è aperto dalle 15 alle 18. Finalmente oggi, primo giugno, giornata importante, giornata in cui si potrà tornare al bar e bere un caffè appoggiati, come si faceva una volta, al bancone del bar, quindi oppure stare all'interno del locale senza dover prendere freddo fuori. Finalmente locali e i ristoranti tornano tutti sullo stesso piano, per i gestori è oggi la vera ripartenza, con la possibilità di mangiare anche all'interno. E c'è chi dice con il ritorno del caffè al banco ai clienti regalo anche il giornale, così come farà appunto Marco Remedi, titolare di questo bar, Creme Caffè di Vienino Bixio a Pesaro, che dice adesso voglio solo poter accogliere i miei clienti con caffè, brioche, cappuccino e tutto quello che vorranno e per coccolarli ancora un po' e per festeggiare la ripartenza, regalerà a loro anche un quotidiano. Caffè giornale, insomma binomio inscendibile. Sul biodigestore invece, pronti l'impianto terminato entro la fine del 2022, Green Factory ha chiesto l'autorizzazione ambientale, a breve ci sarà la conferenza dei servizi, un investimento importante perché parliamo di 35 milioni di euro, con una ricaduta occupazionale di oltre 50 unità. Questo biodigestore, questo è il rendering, cioè il progetto, verrà fatto nella piana di Talacchio ed è stato presentato ieri da Marche Multiservizi con il suo amministratore delegato, ovvero Mauro Tiviroli che dice si corre il rischio che chi fa viene accusato e chi non fa invece viene premiato. Una superficie di circa 22 mila metri quadrati circondata da 500 piante, previsto nella piana di Talacchio al servizio dell'intera comunità. Anche il resto del Carlino, biodigestore, si punta tutto sul verde, Green Factory presenta il progetto, Mauro Tiviroli dice già depositato in provincia, disponibili 35 milioni di euro per l'investimento. L'azienda pubblica ha scelto un percorso privato in linea con il piano T-Draghi. La piana di Talacchio confermata come scelta a fianco della zona industriale. Ok, allora, andiamo sull'altra pagina. Cagli dice addio a Giacomucci, decano dei pompieri, aveva 74 anni, è morto nella notte di sabato. Giacomucci, Marcello Giacomucci, figura molto conosciuta a Cagli anche per essere stato comandante della locale caserma dei Vigili del Fuoco, una caserma che lo ha visto presente per molti decenni, essendo entrato giovanissimo nel corpo dei Vigili del Fuoco fin dal 1968. Oggi alle 10.30 in cattedrale verranno celebrate le esequie, saranno in molte a dare l'ultimo saluto a questo personaggio ben voluto, estringersi con affetto alla sua cara moglie, le due figlie, con i generi e i suoi adorati nipoti. Allora, fu anche, sì, giocò anche a calcio, lo ricorda il Carlino, fu anche una veloce alla destra nella Cagliese degli anni 60. Poi ancora cronaca con un'ape che si scontra, un'ape car contro una panda, un 68enne soccorso dall'eliambulanza, è successo ad Apecchio ieri mattina. E poi, sempre da Urbino, Urbino da oggi va in pensione il capo di staccamento dei Vigili del Fuoco, Claudio Ovarelli, che evidentemente deve essere stato davvero un ottimo pompiere, un'ottima persona, perché si è guadagnato una pagina intera del giornale questa mattina, una vita spesa a soccorrere, quindi meritato riconoscimento. Da oggi in pensione, dicevo, il capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Urbino, smettere lo vivo male, ma questo lavoro si fa per passione. E quindi lo vedete qua nelle fotografie, mentre guarda con un'espressione che dice molto, guarda il suo casco immortalato in questa fotografia. Soccorrere la gente, dice lui, nelle zone colpite dal terremoto, è un trauma, così come negli incidenti mortali. Sicuramente quegli occhi ne hanno viste di situazioni. Gallo accompagna i visitatori e risplende l'arte di Raffaello. Fino al 12 settembre a Palazzo Ducale, gli arazzi monumentali tratti dai dipinti, l'apertura del Corriere, mentre sotto la cronaca, schianto all'incrocio, automobilista abbagliato. Stiamo parlando di questo incidente in Apecchio, dove quest'uomo di 67 anni è stato poi soccorso dall'eliambulanza e portato al Torrette di Ancona. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, invece, un aiuto alla Fondazione Maruzza, qui le cure palliative pediatriche, consegnato l'assegno di oltre 4.000 euro di Buzzelli, l'impegno per il centro a Fano. Santini ha rilanciato l'appello per i bambini inguaribili, il sindaco ricandida l'ospedaletto. E poi ancora dalla pagina 21, Fano esempio per Pontevedra, così ho rivoluzionato la città, il sindaco del comune più sostenibile al mondo, ispirato dal laboratorio di Tonucci, quindi preso spunto dalla città di Fano, che è la città delle bambine e dei bambini. Ballo senza licenza, assolti gli imputati dello sciare del mar, per il giudice il fatto non sussiste, soddisfatti gli avvocati, che dicono avevamo le carte tutte in regola. Ristoranti ora in piena attività sulla pagina di Vallefoglia e via ai weekend gastronomici. Confcommercio invita a scoprire i sapori tipici del territorio a prezzi agevolati, mentre per contrastare la Zanzara Tigre, il comune di Vallefoglia, offre gratis le pasticche, sono già disponibili nella sede di Colbordolo, quindi per chi vuole affrontare questa battaglia che è appena all'inizio contro la Zanzara Tigre, può andare o chiamare addirittura un numero, oppure inviare una mail al comune di Vallefoglia, riceverà una decina di pasticche, credo sì, un flacone contenente dieci pasticche. Poi la morte di Mulas, invece a Sasso Corvaro una perdita per la comunità, il sindaco Grossi ricorda l'allevatore morto domenica, l'esequio domani alle 15.30. E adesso la pagina di Senigallia. Sosta a pagamento a isola pedonale, rivoluzione viabilità sul lungomare, scattano oggi le modifiche, chiusura dei bar alle 21, il comune pensa a un pacchetto di dieci deroghe. Mentre sulla pagina del Carlino, Caterraduno, la città ne perde un pezzo, la storica manifestazione dopo 20 anni emigra verso Pesaro e Cervia, sulla spiaggia di Velluto, solo due date, il 18 e il 19 giugno. Mentre ruba un iPhone, ruba un telefonino, rintracciato e arrestato. Sotto pronto soccorso ci sono solo due medici. Situazione difficile in vista dell'estate, quando la città di Senigallia arriva a 90.000 presenze. Le assunzioni sono in ritardo. L'ultima pagina invece per lo sport, il Fano, Fano che è retrocesso in Serie D. È iniziata però adesso l'altra partita. Il presidente che vedete in questa fotografia, ovvero Fattò Fidani, ha dato mandato a Bernardini di sondare il terreno per il ripescaggio. La società dovrà saldare le ultime pendenze entro il 28 giugno per dare corso alla volontà di risalire. Il patron era stato in Lega Pro prima dell'ultimo play-out e Granata sarebbero in cima alla graduatoria. Quindi ancora qualche lumicino, qualche speranza, così come è avvenuto l'anno scorso, di essere ripescati e di tornare dunque nel mondo del semiprofessionismo calcistico. Noi adesso invece ci salutiamo qua. C'è un appuntamento che devo ricordarvi nel nostro palinsesto, questa sera a 20.30 ovviamente il telegiornale, poi un approfondimento in studio molto interessante su Passaggi Festival, che sta per cominciare a Fano. Passaggi Festival con un cartellone ricco di eventi e di iniziative, quindi se volete sentire come è stato preparato, organizzato quest'anno, non perdetevi l'approfondimento in studio qui su Fano TV. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.